buonasera amici benvenuti nel mio canale allevamento acquatoriale di Raffaele Spoli stasera vi volevo mostrare il mio acquario con betta praticamente qui ci sono i maschi i tre maschi due maschi uno è libero nell'acquare volevo far vedere un po guardate qua non so se si mette troppo vicino non riesce a mettere a fuoco ecco l'amici guardate abbiamo inserito qualche gamberetto speriamo abbiamo inserito termoriscaldatore andiamo l'abbiamo appena staccato per da mangiare ai piccoli qualcuno passa davanti al monico il mantienla guardate l'acquare con betta questi amici sono tutte le femmine sono arrivoso con termoriscaldatore è tutto filtro interno guardate le gambe vecchie carinissime carinissime le foglie per adivinare i cibi di acidificare l'acqua e niente questo è il mio acquario di betta il vetro è un po' è da pulire questo è un bel maschietto e aspettiamo la stagione prossima per poterli riaccoppiare innamoratissimo le gamberi è un po' 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti